Dopo aver sostenuto il concorso di specializzazione, gli studenti di medicina vogliono sapere l'esito e tutte le informazioni essenziali per poter iniziare il lavoro, dunque in quale sede siano acceduti e se siano stati ammessi. La questione riguarda oltre 24.000 ragazzi in tutta Italia e a Perugia è stata organizzata una manifestazione davanti alla sede della Facoltà al Santa Maria della Misericordia. Noi vogliamo solo che ci vengano date le assegnazioni quanto prima e che ci venga dato tutto quello che è necessario per poter fare le immatricolazioni con tranquillità e a distanza e poter avere poi sostegno anche evidentemente nella ricerca di alloggio e pagare quelle che saranno mensilità più salate, inevitabilmente per quel poco tempo che avremo per cercare i nostri dimori. Le aziende ospedaliere basano una gran parte delle proprie attività sul lavoro di questi ragazzi in interi reparti ed ambulatori. Anche con il Covid danno il loro contributo. Come siete impiegati con l'emergenza Covid? In realtà noi in qualità di laureati e di abilitati possiamo andare a lavorare ad esempio nelle continuità assistenziali o ad esempio nelle USCA. Il problema è che questo tipo di attività hanno delle incompatibilità con l'inizio delle specializzazioni. Quindi molti dei nostri colleghi hanno rinunciato ai loro incarichi lavorativi per poter, anzi con l'auspicio, che le scarenze venissero rispettate. Cosa che non è stata mai fatta perché ad esempio nel mio caso per due mesi ho deciso di non lavorare perché speravo che le scarenze sarebbero state rispettate. Quindi in realtà non abbiamo potuto fare praticamente nulla. Il Ministero dell'Università e della Ricerca, hanno detto i ragazzi durante il sit-in, tiene in ostaggio quasi 24.000 laureati pronti ad iniziare un'attività lavorativa o una formazione specialistica o generalista. Per quale motivo non c'è dato saperlo?